ciao ragazzi come state dato che il mio precedente video dedicato ai profitti di noi youtuber legati alle pubblicità di youtube stesso alle sponsorizzazioni alle marchette e così via ha riscontrato un ottimo successo a tal proposito vi ringrazio oggi sono qui per parlarvi di altri lati oscuri di noi youtuber altri metodi che noi utilizziamo per generare profitto ovviamente non sono lati oscuri ma sono degli aspetti che preferiamo solitamente non divulgare io lo sapete sono sempre trasparente con voi e mi piace parlarvi di tutto quello che gira attorno alla mia attività in quanto voi mi seguite mi supportate penso sia il minimo quindi oggi ragazzi sono qui per parlarvi delle affiliazioni e di telegram forse qualcuno di voi è già nel mio canale telegram tech best deals in cui pubblico ogni giorno offerte sconti coupon e anche notizie relative relative ai miei nuovi video meme e tanto altro siete quasi 30 mila e vi ringrazio anche per questo ma questo lo faccio gratis oppure no insomma come funziona e lo spiego subito innanzitutto ragazzi avrete notato che molti di noi youtuber e non solo anche siti web testate giornalistiche twitcher eccetera eccetera sono dotati siamo dotati di un canale telegram in questo canale telegram generalmente postiamo notizie sulle nostre attività e anche offerte legate al mondo della tecnologia e non solo questo perché noi content creator è come venuto ora il termine giusto veniamo spesso contattati da diversi store italiani europei internazionali eccetera eccetera per proporre offerte e coupon di questi store lo facciamo volentieri solitamente quando magari le loro offerte sono in combaciano con la nostra attività io lo faccio con le offerte relative ai droni alla tecnologia eccetera eccetera e quindi noi postiamo queste offerte su telegram ma anche da altre parti sul nostro sito internet sulle nostre chat sui nostri social in questo modo voi potete beneficiare di offerte e coupon magari esclusivi magari no ma comunque un'ottima offerta e noi invece percepiamo una piccola commissione su quel totale di vendita che ovviamente non incide sul vostro prezzo totale e si tratta di una percentuale relativamente bassa che oscilla tra l'uno e il 5 per cento nei casi più importanti anche se sono pochissimi personalmente quando recensisco dei prodotti non ve l'ho mai nascosto vi ho sempre detto che acquistando utilizzando i miei link supporterete il mio canale su telegram è anche scritto ovviamente dicevo si tratta di profitti quindi serve una partita iva bisogna dichiarare pagare le tasse eccetera eccetera cosa che io ovviamente faccio ogni anno dimenticavo che trovate spesso anche i link di affiliazione direttamente nei nostri link in descrizione video quando recensiamo dei prodotti o parliamo di qualcosa comunque è un metodo per generare un profitto che funziona bene genera delle ottime entrate quantificare quanto guadagniamo è difficile perché dipende molto dalle offerte dal prodotto e dal traffico generato dal singolo content creator facendo una stima di massima potrei dire che è un buon 30 40 per cento dei nostri profitti almeno per chi tratta le stesse mie cose quindi tecnologia recensioni tech eccetera eccetera è generato proprio da queste affiliazioni e quindi dalle loro commissioni ora ragazzi però passiamo a un lato che personalmente non mi piace troppo è che denota un po il marcio che c'è in questo sistema di commissioni ovvero lo spam forse nato di offerte su telegram e su altri nostri social ma specialmente su telegram in quanto è un servizio molto potente io l'utilizzo tantissimo quindi se già non ci siete entrato nel mio canale telegram linkato questo descrizione video io personalmente mi prendo ogni giorno essenzialmente la mattina un'ora sbarra due ore per poter cercare per voi le migliori offerte trovarle tramite l'email che mi mandano i vari negozi con cui lavoro scrivere a mano ogni singola offerta per voi magari anche condividendovi qualcosa di divertente qualche notizia dal canale eccetera eccetera però lo faccio perché si crea un rapporto che mi piace molto anche su telegram anche in una chat su cui non potete rispondere direttamente se non con degli smile però mi piace molto questo rapporto che si crea tra me e chi mi segue non solo su youtube ma anche su telegram e quindi io posto all'incirca un 20 25 30 offerte al giorno che sono essenzialmente legate ai prodotti che ho recensito che magari vanno in offerta o qualcosa di molto interessante tutto quel che io vi posso su telegram è scritto a mano da me quindi a volte magari c'è qualche piccolo errore di battitura vi chiedo scusa per questo ma il problema nasce quando su telegram c'è chi si sente più furbo degli altri che magari non è una cosa sbagliata però vi spiego subito come funziona infatti avrete notato che nei canali telegram di alcuni content creator vengono postate anche 2 3 4 500 offerte al giorno con formatazione molto minimale con scritte che sono assolutamente sono copiate dallo store e incollate senza aggiungere nulla di proprio a quello a quelle offerte insomma perché questo ragazzi perché su telegram esistono dei bot sembra una parola bruttissima ma sono in realtà degli automatismi che a pagamento costano in circa 30 40 euro al mese vanno a trovare scrivere e pubblicare offerte automaticamente al posto tuo sul canale quindi possono farne anche mille in un giorno senza problemi questo rende tanti canali telegram uguali tra loro in quanto si vanno a trovare postare generare delle offerte sempre uguali perché i bot alla fine sono solo 1 2 da quello che so e si crea un rapporto molto impersonale tra il content creator e chi lo segue sul canale non nego che io ho provato inizialmente a testare questi botti usati all'incirca 4 forse 5 volte specialmente quando ero in viaggio e non potevo gestire direttamente il mio canale telegram però rendendomi conto che lo stile impersonale non mi rispecchiava non rispecchiava quello quella che è la mia etica di lavoro ho deciso di lasciar perdere e pubblicare manualmente solo quando avevo il tempo libero per poter scrivere e postare qualcosa per voi che vi interessasse ora amici non sto dicendo che utilizzare dei bot è sbagliato non sto dicendo che postare centinaia di offerte sia sbagliato però lo ripeto trovo che sia abbastanza impersonale abbastanza bruttino utilizzare questi metodi per spammare offerte specialmente poi quando in questi canali viene scritto a caratteri cubitali nelle descrizioni di questi canali che tutte le offerte sono selezionate dalla persona X è falso in quanto si tratta di offerte selezionate da dei bot da degli automatismi vabbè si tratta comunque di un metodo per generare il maggior profitto possibile io non lo condivido l'ho provato non mi è piaciuto però c'è magari a chi piace solo che questo è un problema che sta rendendo i nostri canali telegram tutti uguali e getta anche una brutta idea su quello che è telegram legato a noi content creator quindi spero che si possa fare qualcosa in tal senso per arginare la cosa per rimediare un po' poi ovviamente ci sono tanti altri content creator che generano un traffico considerevole che magari non possono stare ogni giorno una, due, tre ore per trovare offerte, trovare notizie, pubblicarle personalmente e vanno a delegare questo lavoro ad altri componenti del loro staff e questa è già una cosa che apprezzo maggiormente vabbè amici questo è un dietro le quinte di noi content creator che spero non faccia arrabbiare alcuni miei colleghi però è come funziona il sistema di affiliazioni almeno qui in Italia per noi content creator italiani non per tutti ma per buona parte fatemi sapere ora però voi cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto vi aspetto per rispondere a qualsiasi vostro dubbio o domanda un bel like per supportarmi perché sì ce n'è bisogno dopo questo video e io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre come vogliate sempre qui su addicta e su tech alla prossima ciao ragazzi e ovviamente ragazzi se volete vi aspetto nel mio canale telegram ufficiale tech best deals linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video ogni giorno vi pubblico delle cose molto divertenti delle offerte delle generazioni come questa vabbè vi aspetto entrate numerosi ciao 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 ciao